Il Pageli di Crozet in dialetto Pramsan. Testi di Crociato 63. E in polperma vo' acquator. Pavarin. Oth. Una gran pareda subito per far capire che con l'anno 9 l'è la salita per babbo nadel. Bravo Senor, perché antemai mole. Genon. 7. Sul gol c'è per tezzer scordè il freno a mantirè. Dopo, una volta mole, esiste determinante e stare dopo con Regine Eld, tanto che la rimonta le partite proprie da Claper-Telì. Castelene. 7. Un voto in più perché ha già il più noioso e l'Empol da Claper-Telì e giugher a quattro e l'Erd là, le tocchè a te star pumancè d'ardè e le fatte senza problemi. Paci. Oth. Fin al gol un vero disastro. Ma col gol lì al pol aver cambiato la strada e la stagione del Perma. Lucarelli. Oth. Sul primo gol anche ti ha ancora paio. Dopo, arrivare in fondo, tutto perfetto. Ma dic sempre un giocatore di un'altra categoria. Lunardenne. 7. Dunque, Pice, andiamo a ben bombare. Però, se a te la cheva stare ancora un brisino più tranquillo, la pola andare ancora a me, perché azzidra imparare ad andare alla velocità della luce. Morone. Oth. Oh, al morone dell'ampassè. Un diesel che continua a crescere quando chietto viene adere a calare. Tonico, dinamico, grintoso, preciso. Te fa davinavigli per 90 minuti. Da vero capitano. Marighe. Dese. Dunque, va tu so. E si autorizzai a mandermi. Beh, e te bello capito. Da quando ti ho detto che ti andavi bene insieme a una pista d'atletica, e ti tirai fuori di giughe di da campione, e torche 3.600. Sette avanti ecci, il pericolo è che a giù in, e portano via subito. Regineld. Oth. Brev ballare. Ecci e fa. Grinta. Voglio stare ad ascoltare se. Dai, su, che proviamo a imbracare la strada giusta, se Dio vuole. Vantaggiè. Sette. Partida anonima. Ma un voto in più, perché quando capì che non era mica la sossiera giusta, e si sacrifichè per la squadra. Bravo bulgaro. Paloschi. Dez. Mi, qualche quando fanno gol, i fanno loro ecci, qualche per un rabbi, qualche fa polemica, e ne capisce mica. La cosa più bella quando fanno gol, l'esplosione contintessa, e una corsa sotto la tua curva. semplicissima, no? E' un'altra amica da inserire un ragazzo di sdotani. Guidolin. Dez. Dunque, mi ha piaciuto. Poche parole e tante fatte. Anzi, una parola è basta. Parfette. Tifosi. Dez. Tarzente e venerdì sera, le un bel numero. Chiama due ragazzi, che è l'ora di dire da buon canoietto, tutti insieme. Berta è al sito del PERM. Sotto è zero. Signor Berta, è nemmeno la prima volta che ha scomportato così. Certi comportamenti l'am passato, i cinque stacchere bombè, ma prima di tutto in un miga comportamenti in linea con la tradizione del PERM e di Pramzian. Dato che la stima è davvero concletta le sottetere, non sarebbe mica ora e sbagliare le persone. E' sì del PERM, che ne pubblica mica la notizia della squalifica, insomma, per piacere, e per la censura di Tempe della Pravda, che vi dovessi figurare bene, proprio sotto è zero. E se vediamo martedì sera da 7 mers, tutta il Tardini per PERM un saluto a tutti i Pramzian e teniamo svist.